Per noi conta intanto cercare di rilevare come Dante metta a frutto nel modo più intenso, nel modo più profondo e potremmo dire nel modo più radicale, una delle caratteristiche proprie della grande arte medievale. La tendenza cioè a rappresentare in modo simbolico il rapporto con le cose, il rapporto con i fenomeni, il rapporto con la vita, in modo simbolico cioè in un modo verticale. Noi concepiamo la realtà come qualcosa che conosciamo attivamente, noi diciamo io conosco qualcosa, io vedo qualcosa, io ascolto un suono, la nostra idea di conoscenza è un'idea che si basa sull'idea che sia il soggetto a conoscere la realtà, che sia il soggetto a compiere l'azione del conoscere. In Dante e nel Medioevo in generale abbiamo una concezione della conoscenza radicalmente diversa. L'idea della conoscenza è un'idea che punta sulla passività del soggetto, non è l'io a conoscere il mondo, ma è il mondo a farsi conoscere dall'io. Questa rappresentazione del conoscere, questa rappresentazione del modo di entrare in contatto con la realtà, può essere definita di tipo verticale e rientra nella grande stagione del simbolismo medievale, cioè quella stagione che privilegiava una interpretazione simbolica e non realistica dei fenomeni del mondo. Un'interpretazione realistica vuol dire parlare delle cose, descriverle quali esse sono. Un'interpretazione simbolica, come ci dice l'etimologia della parola simbolo, che viene dal greco siuimballo, cioè tengo insieme, vuol dire, l'interpretazione simbolica, riconoscere nel fenomeno, riconoscere nell'oggetto del mondo, immediatamente presente il significato. L'io, cioè, non deve cercare di raggiungere il significato delle cose attraverso la loro descrizione, studiando il loro reale modo di essere. L'io deve, al contrario, cercare di vedere immediatamente, cioè senza mediazioni intellettuali, senza mediazioni razionali, senza perfino la mediazione dei sensi. Deve cercare di vedere immediatamente ciò che un fenomeno significa. Se noi teniamo presenti i grandi quadri religiosi dei maestri della pittura del 200, come Duccio da Boninsegna, Simone Martini, Ambrogio e Pietro Lorenzetti o Cima Bue, vediamo che il sacro, la figura sacra, la Madonna o più raramente Cristo o i Santi, sono solitamente circondati, quasi immersi in un fondo oro, cioè alle spalle del soggetto dipinto non c'è una realtà come essa si dà, come essa si offre alla nostra vista nel mondo. Non abbiamo un paesaggio, non abbiamo colline o natura o i tratti architettonici di un'abitazione, abbiamo il più delle volte nella rappresentazione del sacro uno sfondo uniforme, compatto, color oro, che indica appunto l'intenzione del pittore non di descrivere la figura che è oggetto del suo interesse, quanto piuttosto di rappresentare immediatamente il valore sacro di quella figura. Ciò che conta non è il dato di realtà all'interno del quale l'esperienza va a collocarsi, ciò che conta davvero è la possibilità da parte del soggetto di essere raggiunto dal misterioso manifestarsi del divino. Per intendere la conoscenza, questo modo di rappresentare l'esperienza implica da parte di Dante e da parte della sua epoca una sfiducia nei confronti del modo in cui le cose si mostrano. La scienza del tempo di Dante non ha fiducia nella possibilità di descrivere fenomeni così come si vedono per cercare di ricostruire il loro significato. La scienza del tempo di Dante cerca sempre di ricavare dal contatto con ogni fenomeno della vita il significato di questo.